di COD Modern Warfare abbiamo catturato il lupo nella parte precedente adesso se non ricordo male siamo arrivati a a a vent'anni dopo ah no siamo a dieci anni prima siamo a dieci anni prima perchè avevamo visto che Farah era stata catturata un paio di video fa quando erano piccoline suggerito erano stati uccisi e lei e suo fratello vengono catturati e ora sono un po' dentro dieci giorni sempre malata niente cibo o acqua Farah tranquillo posso sopportare perchè ci hanno messi insieme in questo modo? ti usano per arrivare a me prima dovranno ucciderti no dear tu mi servi vivo guarda ho preso una chiave che apre? lo scopriremo ecco tieni prendi ok nascondila arriva il generale Varkov ha saputo dei messaggi sa che tu sei Karim vedremo raga raga sono confuso guarda riunione di famiglia che carini se vuoi che la smetta dimmi la verità vedete ci fare una squadra fatelo parlare quella che ci aveva catturato questa è tutta mia dieci anni prima quindi indietro cioè dieci anni dieci anni scusate poi vado avanti dieci anni prima gli eventi attuali e dieci anni dopo quando Farah viene viene catturata da piccolina dopo l'attacco al suo villaggio indietro feri non azzarzarti a toccarla bastardo non chiederò non ci vai spero vi siate detti tutto tu e tuo fratello potresti non rivederlo più sta zitta e vai nell'angolo non guardarmi Farah vera ti ho detto se hai in mente di fuggire presto cambierai idea guardami ora ha un caldo infernale in questo paese di merda devi avere sete ne vuoi? finita che figlio di puttana ti faccio avere dell'acqua veri seguimi dentro la sedia Farah non puoi scappare Farah non c'è nessuno che verrà a salvarti ti ho in pugno ma posso renderti la vita molto più semplice ora parlami del comandante Karim e di quei messaggi vaffanculo vada come parli Farah ho avuto pazienza con te ora basta non svenire rivedrai tuo fratello un'ultima volta ti darà da bere bene prova a respirare prova a respirare respira Farah puoi farci così bene bene per ora può passare sei forte Farah continua così e rivedrai a dir ora dimmi chi è Karim? rispondi qualcuno qualcuno che maleducata Dovagi ho trovato una delle tue sorelle non ho parlato Farah tranquilla zitta la sua vita è nelle tue mani Farah resisti lei vive svieni lei muore questa volta sarà più difficile non di là para prima o poi dovrai riprendere fiato sei proprio bravo sta ferma dall'altra parte provi a muovere la testa salta l'aria sta ferma basta e tu complimenti farah le hai salvato la vita devi dirmi la verità o lei muore ha fatto quello che volevi no voglio la verità chi è Karim? dillo non c'è nessun Karim io sono Karim sono io Karim ho mandato io i messaggi io sono Karim è tutta colpa mia certo che sei tu Farah no l'ho sempre saputo vi dice? dite agli altri che il loro grande capo ha ceduto ah devi avere fame Farah mangia poi parliamo perché mi hai preso? pensi di potermi battere? basta giocchetti tuo fratello mi ha rubato una chiave dov'è? hai perso la chiave ne manca una ma ne abbiamo altre che cosa apre? ti credi tanto sveglia Karim ora dov'è la chiave che tuo fratello mi ha rubato? avanti quale chiave? quella che nascondi questo paese è una maledetta tana di terroristi porterò ordine e rigore in questa terra e proteggerò la mia patria dai ladri terroristi io proteggerò la russia città città che ci succede? non hai salvato la tua gente Farah Karim l'hai uccisa non sono legata stretta un cucchiaio un cucchiaio una bella lama Sì brava le due volte scusate se parlo poco ma loro parlano ripetizione su sto gioco ci sono tantissimi dialoghi e poi io veramente faccio fatica a trovare i momenti dove mira con il ciasso aspetta sì, ha funzionato vabbè trovare una pistola forse è la chiave non entra devo entrare là dentro posso usarla per salire per salire dove? per salire dove? dov'è che... posso usarla per salire dove? vabbè cioè per salire e vedere vedere qui? allora vediamo un attimo devo trovare a dire no ci deve essere una finestra cioè qua è inutile eccola qua non è un attimo non è un attimo non è un attimo e poi non è un attimo Poi parlo poco perché ragazzi è davvero coinvolgente Succede una cosa dopo l'altra in un film Ruba ah qua sono usciti di qua ok ma se invece ah qua dove c'è tutto questo mi infinevo qui ok al posto di qui dove sbucavo qua ritorniamo nel bagno no va qua è inutile qua ritorniamo nel bagno arrivo sorelle niente sempre pistolino siamo qui sorelle sei scappata lo sapevo le guardie sono in fuga perché ecco cosa serve la chiave grazie barco c'è quasi uccise la giusta sia ammazziamolo ritornano le guardie faremo un imboscata come puntiamo e spariamo per uccidere come abbiamo detto sorelle barco fa chiuso gli altri nel magazzino raggiungiamo lì prima che muoiano tutti ok io voglio muovere lentamente raga perché su sto gioco in difficoltà difficile comunque ti sciolgono da tempo velocemente ci proviamo per cercare di morire il meno possibile non ho capito dove mi ha sparato dalla finestrella vedete quanto è lento quanto è lento anche a a ricaricare ci manca davvero tanto però è bella sta cosa mi piace che stelle incerta che hanno dovuto creare nella campagna ci aiuta ancora di più di desiderato a 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 perché ricarico c'è l'ansia il cecchino vediamo un attimo a dove sei il cecchino di merda a 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 vedete come lo sto giocando un po più lento gioco anche meglio mentre gli altri code la campagna comunque era molto più simile al multidisettore qua è fatto veramente bene chi è il comandante canino? sono io abbiamo ricevuto i messaggi tenente john price gli altri la più avanti sta vicino andiamo qui anche è un altro protagonista della saga a che producono il gas vuole liberarsi delle prove e dei prigionieri li rompiamo state indietro andiamo libero tiriamoli fuori da lì io apro gli spruzzatanti lo messo alla porta è chiusa dammi vai a dire a dire a dire tirate farà a dire sono venuti sì è fatta ce l'hai fatta riprendi fiato raduniamo prigionieri a scorte ce ne andiamo andate a nord evitate l'autostrada bravo sei a cobalt quattro confermate il tempo di arrivo dieci minuti ricevuto restate lì sbrigatevi ci sarà anche barkov per vendicare i suoi va aspettaci si farà me la farà pagare lo sapete gliela faremo pagare noi saremo pronti abbiamo sgomberato la strada a nord accampatevi lì è sicuro grazie la rivoluzione inizia adesso sorella la guerra inizia adesso anche la guerra ha dei valori ricordatevelo bravo sei due minuti al decollo non c'è niente di civile non c'è niente di civile a dire ben addestrato ha cerchiato rapito non importa ha portato il gas in russia sì ma con l'aiuto di alcatada lui ha i contatti e le truppe tu lo piasimeresti non ufficialmente no ma questo è più grande ecco perché si conoscevano loro due ci sono due opzioni o avvisiamo mosca o la madre russia assaggerà la sua medicina no morirebbero molti innocenti a causa di una risorsa occidentale ok ma adesso veniamo al sodo suggerimenti un viaggio da fare non autorizzato fantasma la squadra alcuni vecchi amici e il sergente è pronto vi farò entrare dopo sarete da soli soltanto armi del posto lascia fare a me bel panorama nicolai era la capitale prima di mosca bei vecchi tempi ne ho due alla porta dentro ce ne sono altri un veicolo occhio un bel posto la parcheggiare fa schifo qui il macellaio maglia gialla quello dell'ambasciata niente gas niente a dir colpo facile che tentazione no aspettate ci porterà da adir o parte il gas in quel caso saremmo tutti fregati prepariamoci forza manca poco di qua lo che sono riuscito a fare silenziatori munizioni niente flashbang ben fatto nick calibro 3 so che ti piace ha 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 io ne piglio tutte nascondila appuntamento al magazzino ok porto la merce subito capitano però così non c'è il mireno così così si è il capitano price non piace aspettare quanti colpi ha ma questo è 17 colpi ma non prendere dai so che hai un conto in sospeso con il macellaio il mostro si merita la peggiore fine possibile avrai la tua occasione ma adesso il macellaio ci serve vivo priviet 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 niente male non so dire altro sistemiamo le guardie affinché non diano l'allarme poi andiamo alla porta sul retro ok fuoco al mio segnale non prima calmati calmati abbiamo i permessi dai adesso ottimo lavoro Nicolai spazzatura nel vicolo ho portato i sacchi pensi a tutto tu la porta sergente va avanti mi raccomando il macellaio ci porterà da adir per il momento ci serve vivo questa è una ritorsione oggi non saremo noi a soffrire ma soltanto loro confermo giallo dietro il tavolo zombie steal dai non ucciderlo il macellaio scappa libero libero seguilo non devono seguirci forza il macellaio scappa libero libero seguilo l'ultimo giro ragazzi non lasciarlo scappare non lasciarlo scappare fallo fuori a terra la porta sulla strada la porta sulla strada il macellaio scappa cimini attento dove spari porca puttana il macellaio scappa dai non ucciderlo dai non ucciderlo dai il battaglio va verso sud stai pronto per l'estrazione ricevuto vi seguo come? grazie ai colpi ovviamente non mollarci chiudo forza Garrick non devi perderlo e ho capito che porca vacca stagli addosso io faccio il giro ricevuto il proiettile dai non ucciderlo ecco la testa tutto strozzo capito muoiono per colpa vostra sargete tutto ok bersaglio in movimento lungo il fiume in segui non ci sfuggirà un tetto veicolo l'alto sinistro cazzo hanno un rpg falli fuori eh ho capito adesso non devo più in sicurezza devo sparare ci sfuggirà un tetto veicolo l'alto sinistro cazzo hanno un rpg guardi fuori fuggirà lpg eliminato lpg ci più colpi raga aiuto dammi un'arma cazzo 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 uno chius segregation l screens il bloc vincere cancell� punto vendroni cazzo 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 sc parlezzi Non posso seguire qua sopra Arrivo, capitano No, perché mi fermo a raccogliere le armi Perché poi c'è un fighter a sto Arrivo, capitano Occhio ai rinforzi Ma dove cazzo arrivano? Mi sembra che si ricarica Sta fuggendo Devi riuscire a passare Mi ha voluto la fortissima Merda Sei a terra Ci dirige verso il fiume Forza Garrick, non devi perderlo Nicolai, ce l'ha fatta È difficile correre feriti, no? Ah, è solo un graffio, caricatelo nel furtato Detemi che siete Così manderemo le vostre teste Dalle vostre famiglie Dacci il pezzo di merda Ah, problemino Cosa? Il motore fa un po' le pinze Andagli due carenze Dobbiamo andare Aprici Kyle Falli fuori Madonna raga Ma l'ho crivellato Macellaio in fuga Inseguilo Nicolai, ce l'ha fatta È difficile correre feriti, no? Ah, è solo un graffio Caricatelo nel furtato Detemi che siete Così manderemo le vostre teste Dalle vostre famiglie Dacci il pezzo di merda Dove è lanciaraggi? Ah, problemino Cosa? Il motore fa un po' le pinze Andagli due carenze Dobbiamo andare Aprici Kyle Falli fuori Che chiacchia mia Parade Vaffan... Mille Devo andare subito Vado subito di lanciarazzi Faccio saltare tutte Vaffanculo No Vaffanculo Vaffanculo Nicolai, ce l'ha fatta È difficile correre feriti, no? Ah, è solo un graffio Caricatelo nel furtato Dettemi che siete Così manderemo le vostre teste Dalle vostre famiglie Dacci il pezzo di merda Ah, problemino Cosa? Il motore fa un po' le pinze Ah, dagli due carenze Dobbiamo andare Aprici Kyle Falli fuori Sì, raga, mi sparano due volte E sono morto, comunque È una roba incredibile Arriva la polizia andiamo in misura Andiamo in misura Un po' le instagram ma la risposta Si muro Ecco fatto La cavoletta vai Dov'è.... si trova il gas? Superi il tuo buco del culo russo Non mi fai niente, pezzo di merda Avanti, capitano Puoi fare di meglio Pensi che non ricordi la tua faccia, S.A.S., eh? E la tua, sergente? Presto! Così questo bastardo! Dobbiamo spremere questo verme È quello che faremo Arriva, capitano Bene Vada, Nicolai Prendi la merce Portala qui Sergente Garrick La merce è sul retro Cos'è? Lasciateci andare Merce di scambio Non sappiamo niente Per il negoziato Forse il macellaio collaborerà Mamma, che succede? Shhh, stai tranquillo Non fate del male a mio figlio Faremo come dite Maura, mamma Non devi Sei il bambino coraggioso della tua mamma Dove ci portate? Dove andiamo, mamma? Dobbiamo parlare con delle persone Poi Torneremo a... Quello che state facendo è imperdonabile Noi siamo innocenti Voglio sapere perché siamo qui Shhh Kyle, non sei obbligato Ci stai? Ci sto Bene Portali da io No No, mi prego Usa Amun Per espiorarli, figlio di puttana De maniere forti? Eccole Che cosa hai fatto? Tuo... Tuo figlio è qui Tuo figlio Voi non si fa problemi con i bambini Giusto? Già Cito Cosa hai fatto? Avevo detto di non coinvolgerci Capitano, devo andare Va pure Prendila Che cosa volete farci? Non mi faranno proprio niente, ve lo assicuro Sergente Se tocchi la mia famiglia Brucerò il tuo cazzo di cadavere Mi hai capito? No No Ehi, ehi, basta Basta Loro Loro Ehi, ehi, ehi Guardami Fermo, fermo Fermo, non c'entrano Lasciali stare Dillo al bambino dell'ambasciata Ok, ok, basta Vi prego Vi prego Fateli andare Sergente Capitano Lasciateli andare Loro non sanno niente Che cazzo Mi piace controllare tutto Non permetterei mai a un sergente di maneggiare un'arma carica al chiuso Se non serve Bene Allora, il gas Ehi, ehi, ehi No, lascialo, lascialo Aspetta Ti farò Ti farò Caretka Theater Ve lo giuro, sto dicendo la verità Il gas è lì, Caretka Theater Ve lo giuro Dov'è Adir? Il tizio nuovo Troppo tardi per fermarlo Va, sergente Salvate i russi del cazzo Il generale sarà morto Adir vuole uccidere Barkov Finito, un attimo, andiamo Russia e occidenti andranno in guerra Lasciandoci in pace Va, sergente Il gas è al Caretka Theater Mettilo in sicurezza Certo L'auto è tutta vostra Vi porterà fuori città Adir è da Barkov Lo ucciderà E sarà guerra mondiale Non se arriviamo prima Garryk Saljia coprici Tris, dua, один Schode Generalna polica Sì, sto! Sveglatami, trutti struntzi Sveglatami Conтакthoi non Vìżu imikata Vìmanea allo Zalosniiki безопасi Imikata cely Mestnik stese Preenito Rassciotti in защita è già in putti. Il giovane può dormire tranquillamente. Ehi, un posto di blocco. Per noi fa qualche differenza. La strada è bloccata. Qual è il piano? Non fermiamoci! E se non si spostano? Allora scateniamo l'inferno. Tre secondi. Si sposteranno. Oh cazzo, capitano. Nicolai ci ha salvato il culo. E se ci seguono? Non lo faranno. Capo. Sistemiamo un casino. Con donne e bambini. Erano un vantaggio. Erano ostaggi. Quando ti togli i guanti ti sporchi le mani di sangue, Kyle. È così che funziona. A che punto stabiliamo il limite? Stabilisci il limite ovunque ti serva, sergente. A fine giornata devi aver fatto più del nemico. Noi ci sporchiamo e il mondo resta pulito. È questa la missione. Se hai cambiato idea, posso continuare anche da solo. No, signore. Andiamo avanti. Bene. Ora prendiamo Adir prima che uccida Varkov. Una squadra. Adir e i suoi. Cercano ancora. Allora non è troppo tardi. Aggiungiamo Adir. Prima che scateni una guerra nel sotterraneo di Varkov. Stiamo vicini. Ragazzi, io direi che ci sedutiamo qua. Ci vediamo nel prossimo video. Spero che vi sia piaciuto. E alla prossima. Ciao. Ciao.